signore e signori buonasera a tutti e benvenuti nelle fantastiche un scenario di Villa Semani 24 giugno 2021 è il momento di accogliere così come meritano con un caloroso applauso i nostri sposi Cosimo e Denise subito un fantastico scenario pirotecnico a cornice di questo fantastico ingresso signori io direi di fare ancora un caloroso applauso i nostri sposi ancora a tanti auguri Musica 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 Musica